Ok, allora, uno dei pensieri è da sola non ce la faccio, e poi tanti altri pensieri che confermano questa cosa. Non sei nessuno, hai bisogno degli altri, hai bisogno... io sento questo pensiero quando devo realizzare un progetto. Ok, allora quando... Non devo realizzare un progetto nella mia testa e da sola non ce la farai mai. Allora, quando devi realizzare qualcosa, ti arriva questo pensiero da sola e non ce la farai mai. Ora, guardate che vuol dire mente, percezione e dati di realtà, non realtà, eh, dati di realtà. Quanti anni hai? 43. 43. Se fosse vero il pensiero da sola non ce la fai, saresti morta molto prima dei 43 anni, perché se sei nata... Questo è un dato di realtà. Se sei nata, sei arrivata a 43 anni, o hai avuto sempre chi ti ha salvato, minuto per minuto, secondo per secondo per 43 anni, chi ti ha accudito, nutrito, eh, oppure ce l'hai fatta da sola tantissime volte, non dico infinito, numero finito, ma molto alto. Però la mente continua a dirti che da sola non ce la fai. Proviamo a trovare uno dei vostri pensieri che può combaciare, perlomeno con i dati di realtà. Qual è il tuo? Allora, io mi sono, lo chiamo e dico, spesso, a varie, anche lì, varie sfumature, che io non sono interessante per quello che sono, ma soltanto perché sono comoda e utile. Ok. Non sono interessante per quella che sono, ma solo perché sono comoda e utile. A parte che è comoda, mi sa, di sedia, di divano, è utile, non lo so, mi sa, di strumento per qualcosa. Non disturbi, che non disturbi. Cioè, lei è accettata solo perché è comoda e utile e non disturba. A parte che non disturbi. Non sono interessante per quello che sono. Torniamo anche qua a un dato di realtà. Se tu non fossi interessante per quello che sei, non avresti relazioni, perché comoda e utile, può esserlo per qualcuno, può essere in determinate situazioni, ma non tutti quelli che hai intorno, non tutte le persone che hai conosciuto, non tutte le persone con cui hai scambiato, possono avere quest'unico criterio di scelta. Quindi, di fatto, è quale esperienza, in questo caso, ti ha dimostrato che non sei interessante per come sei. Ora, non ti chiedo di rispondere, perché dopo vi faccio fare un passo oltre. Voglio farvi sperimentare una cosa che io faccio spessissimo, che è un'esperienza di autovalutazione, per vedere il nostro giudice interno, nell'inconscio, quanto ci stima. È una cosa interessante, lo scoprirete tra poco. Quindi, rimani là. Però, per te, tu non sei, sei solo comoda e utile. Ok, vai. Allora, io mi sento sempre non abbastanza preparata, attenta. Ok, perfetto. Notate che finora ci sono tutte comparazioni, esplicite o implicite, ma ogni pensiero disfunzionale, un pensiero di comparazione con qualcosa o qualcuno, non abbastanza, non solo comoda, vuol dire non altro. sapete come funziona. Se dico delle cose, sto paragonando all'altro. Alle altre. Lei non è mai abbastanza preparata, non è mai abbastanza, anche intelligente, di solito, l'abbastanza. No, intelligente... No, intelligente. Intelligente sì, solo preparata. No, no, perché bisogna capire le sfumature. Sei intelligente, ma proprio perché non ti applichi. Quindi quella cosa è intelligente, ma potrebbe dare di più. È un po' diverso. E com'è? Non sei abbastanza... Ah, probabilmente rispetto alla mia immagine ideale. C'è questo giudizio costante, posso fare ancora meglio, eccetera. Non so come... Sì, sì, immagine ideale che non raggiungi mai, quindi puoi fare sempre di più. Ok, perfetto. È vero che puoi fare sempre di più nelle situazioni? Sì, in alcune sì. Ok, in alcune sì. Ti faccio un'altra domanda, pensaci bene. C'è un limite oltre il quale tu dici ho fatto abbastanza? Sì. Ah, ok. Quindi oggettivamente tu sai stabilire quando hai fatto abbastanza e quando no? Oggettivamente no, non sono sicura. Cioè, mi riferisco a ieri, così faccio un esempio che è più semplice. Dopo tanto tempo mia figlia è arrivata a casa, abbiamo pranzato insieme, poi doveva fare i suoi lavori, si è messa in una stanza. Io mi sono detta, però potrebbe essere anche il momento per fare due parole, però non vado a disturbarla perché sta lavorando. Sarà lei che nel caso lo desidera me lo chiede. Però poi ho continuato a farmi il tormento, a dire ma mi sono dimostrata disponibile con lei. Ok, ok, ok. Tutto benissimo, ma il mio tormento era, ho fatto abbastanza per essere disponibile. Cioè, non so se mi sono... Ok, in questo caso però andiamo a un livello ulteriore, sia per lei sia per tutti noi. Notatelo, in questo caso è sempre paura del giudizio, o meglio difesa dell'immagine. Cioè, sarò sembrata abbastanza, poi se lo legge come sarò stata abbastanza. Ma in realtà è che pensa l'altro, era meglio dirglielo, non dirglielo. Quando abbiamo il dubbio di abbiamo fatto la cosa giusta, è sempre, sempre, sul giudizio dell'altro. Perché il nostro giudizio, in realtà, interno, lo possiamo leggere anche in quel momento. Se io dico, sto facendo abbastanza per questa lezione, il mio abbastanza, me lo posso dire sì o no? Ma me lo posso dire. Quando inizio a dire, no, ma se mica ho detto troppo, ho detto poco, vuol dire rispetto a quello che voi percepite. Cioè, come loro mi giudicheranno. Paura del giudizio degli altri. Ditemi se ci siete su questo. Sarò sembrata abbastanza disponibile, abbastanza... Quell'amica la dovevo chiamare, chiamare di più, chiamare di meno. No, se ti ascolti, dici, no, l'ho chiamata, le ho detto che ci sono. Io sto a posto con me. Però poi arriva quella parte, è lei che mi ha percepito abbastanza vicina. Forse è meglio che chiamo, no, non chiamo, se no disturbo. È voler apparire, voler avere l'immagine perfetta agli occhi degli altri. E questo già è un bug della mente, perché abbiatene poche certezze ci sono nella vita, ma il giudizio degli altri è variabile, non è sotto il nostro controllo. E comunque la facciamo, la sbagliamo. Quella volta che chiami, hai chiamato troppo. Se non chiami, becchi quella che dice, però potevi chiamare. Quindi, siccome le persone sono tutte diverse, non c'è una modalità unica. È inutile stare là a pensare tutte queste cose. Ok, Silvia. Io ho scritto, morte con sofferenza. Morte con sofferenza. Paura di morire soffrendo. Ah, ok, paura di morire soffrendo. Un'agonia, un periodo di sofferenza. E poi, l'altra ho scritto, pensiero catastrofico, cioè se le mie figlie si troveranno in ambiente ostile, sia per cataclismi, salute, guerra, caratteristiche cattiveria, nel senso etimologico, cioè perdita della libertà, altrui o di se stesse. Sulla morte con sofferenza ho avuto io qualche esperienza di sofferenza, quindi ci sto anche lavorando su, nel senso che poi attivi e poi spero che ci siano le droghe, vabbè. Però c'è questo pensiero, poi ho visto mio papà morire in un certo modo, per cui, eccetera. Ho provato a metterle insieme e mi viene da dire che non posso controllare tutto. Infatti, allora, i due pensieri sui più forti sono morte con sofferenza, che riguarda te sostanzialmente, quindi paura di morire con sofferenza, e invece paura per le figlie che si possano trovare in catastrofi di tutti i tipi, di malattie, climatiche, cattiveria, gente che gli fa del male, ok. Ora, immaginate che vuol dire vivere ogni giorno con pensieri catastrofici di questo tipo. Ed è tutta una proiezione mentale, è tutto un film mentale. Però se non abbiamo degli strumenti per, rischiamo di vivere una vita veramente faticosa e molto dolorosa. Ora, il tuo strumento già lo hai in qualche modo attivato, perché hai detto, mi dico che non posso avere il controllo su tutto, perché già hai capito che pensieri catastrofici di questo tipo, se succede qualcosa ai miei figli, alle persone che voglio bene addirittura, sei arrivata a eventi climatici, cioè si trovano in un uragano, capito? Che cos'è? È il tentativo della mente di avere il controllo, di dire se ci penso posso fare qualcosa, ma in realtà là devi solo mollare, perché sai che se arriva un uragano, se ora arriva un terremoto e crolla tutto, ragazzi ci siamo salutati, va bene così, ma non è che se ci penso io posso fermare il terremoto. Se ci penso posso solo stare costantemente in allerta e di solito, ascoltatevi bene, se riguarda altre persone come i figli, trasferisco quest'ansia anche a loro. Perché se io sto a pensare, oddio, Martina ora se sta succedendo qualcosa, e se c'è qualcuno sotto i porti, ora chiamo, ora richiamo, ora faccio vivere una vita ansiosa anche alle persone, e la trasferisco quest'ansia, quindi è bene capire che è la mia mente che mi dà il tormento e capire come uscirne. Ok, grazie Angelo, un po' più veloci tutti così li sentiamo tutti. Devo, bada, ho bisogno di essere in forma fisica, bello da vedere. Gli altri devono, ho bisogno, sapere che sono bravo. Ale, la mia compagna, deve, ho bisogno, essere carina e presente con me. Insomma, ho bisogno di, e ci si accorga di me, che venga visto, riconosciuto, di esistere, di essere amato. Ok, allora, lui ha bisogno di essere in forma fisica, bello da vedere, quindi apprezzato dalle persone più vicine, apprezzato da tutti, bravo nel suo lavoro, quindi se l'è ricavata da solo, ho bisogno di essere amabile per essere amato. A parte che ti chiederei in prestito la forte convinzione, ho bisogno di essere in forma fisica, ma quella, quella, poi alla pausa se me ne dai un po', ti ringrazio, perché io ho bisogno di aver bisogno di essere in forma fisica. Ok, ottimo lavoro per tutti, quindi tu sai già su cosa lavorare, pensi di non essere amabile se non sei in forma fisica, bello da vedere. Come tutto, notate, man mano che andiamo avanti, che bello, ogni convinzione di questo tipo ha i suoi lati negativi. Negativo o positivo, usiamolo qua tra virgolette, perché in realtà non sono negativo o positivi, chiamiamoli funzionali o disfunzionali, perché per Angelo è invidiabile il fisico che ha, e molta gente glielo invidierà, a caso io per esempio, ma è per dire no. Di fatto però, che succede? Che noi vediamo il risultato, ma non vediamo quello che c'è dietro. Cioè se mai, ora davvero invento, però lui può invidiare me che non sto dietro a tutto questo, e dice, lui può stare pure col pancione, non fa sport, non fa niente, però non si sente non amato per quello. Cioè quindi vedete come poi ognuno invidia l'altro, non è che esiste un modo di essere. Mi dite se è chiaro? Ok, grazie Angelo, Nicola, vai. Io come Violetta, musica delle sfumature diverse, l'ho scritta, qualsiasi cosa faccio non è abbastanza. Qualsiasi cosa faccio non è abbastanza. Già notate una cosa, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, siamo solo a sei, notate che c'è una certa similitudine tra tutti, cioè i pensieri nucleari che ci fanno soffrire, non sono sei diversi, wow, ok, non sono abbastanza. Di fatto quello è. Cioè vedo una, come dire, un paragone con gli altri e una svalutazione. Esatto, paragone con gli altri e svalutazione. L'abbiamo detto prima, è per questo che dobbiamo incarnare poi quello che diciamo, non pensarlo. È sempre un confronto, tutti i modelli linguistici, se li volete ridurre a due o tre domande, dovete ridurli a beccare l'elemento di confronto, perché non sono abbastanza rispetto a cosa, al tuo Nicola ideale, perché tu sei come sei. Noi abbiamo difficoltà ad accettare il nostro livello di sviluppo, il nostro livello di coscienza. Dopo parliamo anche di questo, ricordatemelo. Grazie, vai. Io ne ho due, però questa è forse quella che mi si incastra di più. Siccome io penso, cioè, siccome non esistono a realtà oggettiva e non posso essere sicura di cosa pensa l'altro, non sono sicura neanche di cosa penso io mai, che sento io. E questa cosa non mi fa decidere e scegliere, la cosa che penso sia giusta per me, e quindi rimbalcio sempre sulle due decisioni, perché penso, ma è sicuro quello che pensano, perché potrebbe anche essere un altro modo, e quindi non vado bene, perché poi sto malissimo. Ok. Qui un'altra variante interessante. Non sono sicura di quello che penso. Hai aggiunto una cosa che però hai giustamente lasciato cadere, perché non è così. Non sono sicura di quello che penso o di quello che sento. In realtà quello che pensi e quello che senti sono due cose diverse. Sul pensiero possiamo essere poco sicuri, sul sentire è difficile non essere sicuri, perché il problema è solo uno in quei casi, anzi sono due, dai, rendiamo un po' più complesso. Uno, metterti in ascolto, perché finché la mente parla, ve ne accorgerete parlando con altre persone, e poi portatelo però su di voi, quando dite a una persona cosa senti, senti, tipico di chi è nel dilemma, esco da questa storia d'amore o no, che ti dice, tu gli dici, cosa senti? Tu immagina Rosalinda, quando vi svegliate la mattina, tu apri gli occhi, la guardi, che lei sta ancora dormendo, cosa senti? Eh, penso, ma è lei veramente la donna? Eh, questo è quello che pensi, no? Cosa senti? Eh, sento che, penso che non sono sicuro. No, questo è pensi, cosa senti? Allora, là bisogna fare, bisogna fare di solito proprio degli esercizi, delle esperienze in cui gli metti la foto di fronte, l'abito a guardare, gli occhi di Rosalinda e ascoltare il corpo. Piano piano sensibilizzi al sentire e la persona ti dice, sento che non è la donna con cui voglio passare, l'avete oppure, no, ma io sento che la amo, allora perché penso? Poi si arriva a un'altra fase, però, se sento che l'amo, perché penso che forse non ci dovrei stare? E là si lavora sulla distinzione proprio tra quello che pensi e quello che senti. Ditemi se è chiaro quello che sto dicendo. Ok. Quindi due cose. Una, abituati a sentire, perché il sentire è difficile. Quando lo senti, è difficile sentirlo forse, ma quando lo senti, senti se è perlomeno una sensazione di piacere. La prima distinzione delle nostre sensazioni è piacevole e spiacevole. è proprio il primo livello di distinzione. E quello è fisiologico. Cioè, se uno ti dà una martellata sul ginocchio, è difficile che si dice, ma, non lo so, forse piacevole, spiacevole, ci devo pensare un attimo. No. Ok. Quindi uno, sentire. Due, accettare quel sentire senza metterlo in dubbio col pensiero. ve lo ripeto, accettare quel sentire più che altro notando che la mente lo mette in dubbio, ma accettandolo. Nel senso, io provo un piacere estremo a rubare. Poi la mia mente mi dice che è sbagliato, eccetera. Quando si lavora con persone, anche con queste problematiche, diciamo, ma io quando rubo, proprio sento una sensazione piacevole. È un po' come le dipendenze. Io quando faccio shopping, che senti? Sento un appagamento, sento, fammi capire dove lo senti, qua allo stomaco, è piacevole. Quello è il sentire. Poi pensa, oddio, che sto facendo, sto sprecando tutti i soldi. Però ricordatevi che pensare contro sentire vince sempre il sentire. Se non siamo educati poi con un processo. Quindi, attenzione al dubbio. Il dubbio di solito è mentale. Quando c'è un continuo pensare, pensi tutto il contrario di tutto. A quel punto ti devi fermare, se vuoi, ascoltarti, educarti all'ascolto di te stesso e fidarti del tuo sentire. Ditemi se è chiaro quello che ho detto. Poi fidarti vuol dire che lo puoi anche mettere in dubbio, dopo non ti piace, ci ragioni. Però fidarti vuol dire che senti quello, accettarlo. Vuol dire io, quando faccio questa cosa, penso che è sbagliata, ma sento piacere. Questo è. Questo è già un livello di chiarezza con se stessi che è incredibile. Il problema è che siccome pensiamo che è sbagliato sentire piacere, diciamo che non è vero che sentiamo piacere, ma così noi pensiamo di uscirne. Invece, ditemi se è chiaro intuitivamente, incasiniamo il tutto. Da quella chiarezza poi si inizia a uscirne. Quando uno dice io con la cocaina provo piacere, mi dispiace, dottor, è così, lo so che è sbagliato, so che sto rovinando me, la mia famiglia, però io provo quello. Bra, ora iniziamo un percorso. Però non mi dire no, non è vero, perché io la prendo, ma in realtà non provo piacere, perché là vuoi giustificarti, ma ti incasini, perché non sai più la realtà delle cose qual è. Allora, io quando tradisco mia moglie, mio marito, provo piacere, però non lo voglio fare. Ok, provo piacere, non voglio farlo, realtà, e si ragiona. No, ma non è vero che provo nemmeno piacere, te la stai a raccontare. Perché se non provo nemmeno piacere, non lo fai. Sei un pirla. Sei un pirla, bravo. Ok. Ok.